Grazie, grazie da RM Serio, grazie perché con voi siamo diventati i trini, con voi abbiamo fatto tanto e ancora di più faremo, ogni giorno, programmi, musica, attualità, settabili, ogni giorno in macchina, ogni giorno sempre più vicino, grazie perché l'indice di ruovimento è sempre più alto, il numero d'ascolto sempre più basso, la nostra voglia di fare meglio sempre maggiore. RM Serio, per questo non vi lascerà mai, grazie dal numero uno.